Un contributo artistico per sensibilizzare e rendere omaggio agli eroi di questa battaglia contro il coronavirus, eroi straordinari, ma anche noi tutti, che anche solo rispettando le regole e rimanendo in casa, contribuiamo ad evitare che il virus si diffonda ulteriormente. E il noto fumettista abietense Emanuele Leone con la sua Ema Comics a dare il suo sostegno con un'illustrazione dedicata agli eroi dell'epoca del coronavirus. Con questa illustrazione volevo dare un piccolo contributo da parte mia di Ema Comics al periodo che stiamo vivendo, che è un periodo difficile. Con questo disegno volevo far vedere che ognuno di noi può essere un eroe stando all'interno dei propri appartamenti, dando una mano così agli operatori che stanno oggi, si stanno prodigando in prima linea appunto negli ospedali facendo dei turni drammatici. stando a casa riusciamo a salvaguardare i nostri parenti, i nostri affetti e magari si può anche vedere di riscoprire le nostre antiche passioni, che può essere il disegno, la musica, la scrittura. Quindi vi chiedo gentilmente di rispettare quelli che sono i decreti ministeriali che ci sono stati dati perché è una nostra responsabilità ed è un nostro dovere farlo. È un dovere appunto per chi c'è vicino e soprattutto per le persone che stanno lavorando e si stanno prodigando per noi per salvaguardare quella che è la nostra vita. Perché con la malattia purtroppo andiamo a toccare quello che è la nostra vita. Volevo anche dire che sono vicino a tutte le famiglie che hanno avuto delle perdite e sono vicino anche a tutti quei commercianti che oggi sono in difficoltà in quanto hanno le loro attività chiuse. Andrà tutto bene?